Dopo tre giorni di incessanti ricerche, la comunità di Villa Simius è stata colpita dalla triste notizia del ritrovamento dei corpi di due subesperti, dispersi da domenica scorsa nel mare a sud della Sardegna. Stefano Bianchelli, 56 anni, di Todima residente a Villa Simius e Mario Perniciano, 55 anni, di Cagliari, erano scomparsi durante un'immersione vicino al relitto della nave San Marco. La scoperta è avvenuta a 106 metri di profondità, quando il Remote Operative Vehicle, ROV, un robot telecomandato dei vigili del fuoco, ha individuato i corpi vicini tra loro. Una delle salme è già stata recuperata grazie agli sforzi congiunti della Capitaneria di Porto di Cagliari, che ha coordinato le operazioni di ricerca e salvataggio. I due sub si erano immersi domenica mattina per un sopralluogo tecnico al cavo di ormeggio del relitto, sito molto frequentato dagli appassionati di immersioni, situato tra l'isola dei Cavoli e quella di Serpentara. Nonostante fossero equipaggiati adeguatamente per un'immersione programmata di circa un'ora, non hanno fatto ritorno alla barca d'appoggio, da cui è stato lanciato l'allarme alla Guardia Costiera. Le operazioni di ricerca hanno visto il coinvolgimento dei sommozzatori, della sezione navale e dell'elinucleo dei vigili del fuoco. Un drone subacqueo è stato utilizzato per esplorare aree meno accessibili, estendendo le ricerche fino alla costa. Le circostanze esatte della tragedia sono ancora oggetto di indagini. Appena abbiamo avuto la segnalazione di emergenza, questa sala operativa, la sala operativa della Capitaneria di Porto ha attivato tutte le risorse che aveva a propria disposizione, a cui hanno concorso anche i privati, oltre ai vigili del fuoco, oltre all'unità della Marina militare che è nel teatro delle operazioni da stamattina e anche con mezzi aerei oltre a quelli navali. Purtroppo sì, i tempi sono molto ristretti, l'attività di soccorso è sempre una lotta contro il tempo e questo tempo, quando si tratta di attività subacquee, diventa veramente, veramente limitato.